La speaker di oggi è Luisa Ravelli, che ci parlerà di MainWP. Luisa è consulente freelancer, è sempre appassionata di informatica, è co-organizer del meetup di Brescia ed è CTE del team Polyglots, che è il team di traduzioni di Wordpress. Quindi a te la parola Luisa. Grazie mille. Ciao a tutti. Appunto c'è stato un cambio di programma, quindi non vi parlerò di ERP. Se qualcuno sta aspettando quello, purtroppo non è nelle mie competenze. Vi parlerò invece di MainWP. MainWP, quindi una piattaforma per avere tutti i vostri siti sotto controllo, in modo facile e veloce. Un velocissimo sondaggio. Chi di voi gestisce meno di 10 siti Wordpress? Tra i 10 e i 50? Ok. Qualcuno di più? Ho delle mani anche per di più. Complimenti. Qual è l'idea? Fondamentalmente abbiamo iniziato tutti con un sito Wordpress. Bello, ci siamo messi, ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, l'abbiamo coccolato. Tutti i giorni tornavamo a controllare che fosse tutto a posto. Oddio c'è un aggiornamento, oddio c'è una cosa da fare. Eravamo sempre lì. Bellissimo. Poi i siti hanno cominciato a diventare magari 10 e allora ha cominciato a diventare un po' più impegnativo. Allora devo fare questo sul primo sito, poi no aspetta, il secondo aveva l'aggiornamento, sul terzo devo mettere un contenuto. Poi mi hanno chiesto sul quarto di aggiungere un utente e no però il cliente è lo stesso, vuole lo stesso utente magari su tutti e due i siti o lo stesso tema o lo stesso plugin. Vabbè però ce la facciamo, ci impegniamo un attimo, ci segniamo le cose da fare e ce la facciamo ancora. I siti aumentano, diventano 20, più di 20 e lì comincia a diventare veramente un po' complicato. Va a finire che c'è sempre il sito che vi dimenticate. Al di là della perdita di tempo, salta da un sito all'altro, oddio ma la password di amministratore di questo e l'utente che avevo messo qual era? No, password lunghissima per la sicurezza. No, non ci siamo. Oddio, niente, il sito di quel cliente è un mese che non ci entro, ha un milione di aggiornamenti, vulnerabilità di sicurezza. Lo sappiamo poi da dove entrano quando sfondano il sito nel 90% dei casi, plugin non aggiornato, tema non aggiornato. Vabbè, per il core gli aggiornamenti di sicurezza magari entrano da soli, quindi lì siamo un pochino più coperti. Però diventa da una parte fastidioso perché comunque magari il cliente entra e comincia a vedere che, ma sei entrato a controllarlo ultimamente? Perché mi sembra ci siano un po' di cose da fare. Dall'altra parte, appunto, anche come sicurezza, diventa complicato. E allora ecco che abbiamo diversi strumenti che vengono in nostro aiuto. Io vi parlerò in particolare di questo che è MainWP. Esistono diverse alternative, ci sono sia soluzioni gratuite, soluzioni a pagamento. Io vi parlerò di una soluzione che è completamente open source, mentre ne esistono anche di proprietarie. Questo è MainWP e nella home page del suo sito vi promette, gestisci tutti i tuoi siti web in un'unica bacheca. Oh, già promette bene. Free download. E anche qui, dice, diamogli una chance. Come funziona? Fondamentalmente dovete, primo passaggio, installare il plugin padre, quindi MainWP, su una vostra installazione WordPress. Quello che loro vi chiedono e che anche io vi consiglio è di dedicare un'installazione solo a questo. Tecnicamente io ho provato, lo potete fare anche su un'installazione che ha del contenuto, però effettivamente stravolge la bacheca, si prende parecchio possesso di tutto quello che è la vostra dashboard. Quindi effettivamente può valere la pena, anche perché così non si rischiano conflitti con altri plugin, conflitti con temi. Fatto questo, siamo pronti, cominciamo ad andare a vedere i nostri siti controllati e su ognuno dobbiamo andare ad installare il plugin figlio, MainWP Child. Quando lo attiviamo, lui mi dice, benissimo, adesso vai nella tua bacheca principale e fai l'ultimo passaggio. Collegami con una bacheca di gestione. Lo dicono anche loro sull'home page. Tre passaggi. Facile, effettivamente si fa in pochi minuti. E poi che cos'è che ho? Appena installato, il sistema mi dà una bacheca che mi permette di fare nativamente aggiornamenti su core, temi, plugin e traduzioni. Mi presenta una bacheca dove mi fa un riepilogo e mi dice quanti aggiornamenti del core ho, quanti dei plugin, quanti magari di uno stesso plugin su più siti. Me li fa vedere tutti insieme e mi permette poi per ogni sito sia di fare gli aggiornamenti direttamente alla bacheca, quindi sul singolo plugin clicco aggiornalo e ci pensa lui. Oppure con un click dal mio elenco di siti posso accedere direttamente alle singole bacheche. Anche qui posso avere le password più complesse dell'universo perché tanto è lui che è direttamente collegato e non ho più il problema di dovermi ricordare dove ce l'ho segnato. Magari qualcuno le salva nel browser, ma magari in quel momento per una ragione qualsiasi non ho il mio portatile. Cos'altro possiamo fare? Possiamo gestire pagine, articoli e anche utenti. Cosa possiamo fare con questi? Possiamo innanzitutto tenerle d'occhio, quindi vederle, vedere le ultime pagine pubblicate, gli ultimi articoli, vedere l'elenco degli utenti. Ma poi sempre senza uscire dalla nostra bacheca possiamo anche pubblicare delle pagine, degli articoli. Possiamo anche pubblicare quelle che il sistema chiama bulk page e bulk post, cioè una stessa pagina, uno stesso articolo su più siti. Lui mi dice su quali siti vuoi agire? Posso dividere i siti tra l'altro anche in gruppi. Quindi potrei avere un cliente che ha dei siti collegati e dover pubblicare lo stesso articolo su tutti e tre o la stessa pagina con le stesse informazioni. Anche per gli utenti vale la stessa cosa, posso creare un nuovo utente, posso modificare o eliminare un utente esistente, chiaramente vederle nell'elenco. Posso caricarli a partire da un CSV su uno o più siti, sempre senza uscire dalla mia bacheca. Un'altra cosa carina che la nostra bacheca fa è che ci dà una mano a tenere d'occhio quando temi e plugin diventano obsoleti. Cosa significa? Per lui di default che non vengono aggiornati da almeno 365 giorni. A questo punto lui me li marca come obsoleti e mi dice tieni d'occhio. Io posso anche dirgli vabbè ignora questa segnalazione, so benissimo che è così, so perché è così. Se invece io non me ne fossi resa conto è una segnalazione interessante perché magari posso andare a vedere se il plugin è stato davvero definitivamente abbandonato, posso valutare di sostituirlo. Un'altra cosa, lui nativamente mi propone 365 giorni ma questa cosa è personalizzabile, quindi potrei anche decidere di volere un alert dopo sei mesi perché comunque voglio fare delle verifiche per la sicurezza o comunque per una comodità mia di tenere un po' sotto controllo e appunto eventualmente andare a vedere se esiste qualcosa di più aggiornato, di nuovo che non conoscevo quando ho installato quello. Posso anche dirgli che determinati temi o plugin per me sono sempre verificati, cioè io sono tranquilla, quel tema, quel plugin aggiornalo pure sempre. Faccio per dire un esempio, Akismet. Akismet viene sviluppato dallo stesso gruppo che sviluppa il core in linea di massima, ma non so se a qualcuno è capitato di plugin di conflitti in seguito ad aggiornamento di Akismet, non ne ho mai avuti. Se ce n'è uno per me puoi farlo. Però questo lo decidete voi. Poi un'altra cosa che sempre nella versione di base è così, come l'avete installato solo con i tre click di installo di qua, installo di là, collego, vi dà anche dei suggerimenti di sicurezza. Cioè vi dice, guarda, su questo sito potresti voler nascondere la versione di WordPress. e lo potete fare direttamente dalla bacheca con un click. Come pure vi dice, potresti voler evitare la possibilità di elencare l'elenco dei plugin installati. E anche questo vi permette di farlo con un click. Vi elimina il readme, anche questo perché potrebbe, a voi non serve tutto sommato nulla e potrebbe far vedere che cosa utilizzate sul vostro sito. Se quello che fanno attivamente non vi basta, volete qualcosa di più, ci sono tutta una serie di estensioni che potete scaricare gratuitamente dal sito registrandovi, che sono gratuite e fanno, ve ne ho elencate solo alcune, delle cose anche piuttosto interessanti. Per esempio, vi permettono di interagire con diversi plugin che fanno i backup per lanciarli direttamente dalla bacheca. Ci sono BackVP App, Backup WordPress, Updraft Plus, c'è un altro che non ricordo, che però non è sviluppato da loro, in quel caso l'estensione è sviluppata dagli sviluppatori del plugin di Backup. Quindi voi scaricate questo plugin, lo integrate e a questo punto se avete, per esempio, BackVP App installato sui vostri siti figli, potete controllarne il backup di nuovo dalla bacheca senza dovervi recare sui singoli siti. Vi permette anche di personalizzare la vostra dashboard, quindi di decidere quali moduli vedere, quali no, lui di default vi fa vedere l'elenco degli aggiornamenti, le ultime pagine post pubblicati, però potete scegliere voi. Potete anche personalizzare l'aspetto grafico della vostra bacheca. Sempre con un'estensione gratuita potete andare a fare la scansione con sucuri oppure fare un ulteriore controllo sulle vulnerabilità note o registrandovi su un servizio esterno e collegandolo alla vostra bacheca il controllo dell'uptime dei vostri siti. Ultimo, questo sviluppato da terze parti nell'ultimo anno, Activity Log. È un plugin che si collega alla vostra bacheca e va attivato sito per sito, bisogna quindi poi entrare nel singolo sito e attivarlo anche da lì, però vi permette di vedere tutto quello che fanno i vostri utenti registrati sul sito. Quindi, qual è il classico problema? È sparito tutto dal sito e tu cosa hai fatto? Niente. Non ho, non sono neanche entrato stamattina. No, sei entrato e hai aggiunto una pagina, aggiunto un plugin e io così lo posso vedere. Ci sono poi tutta una serie di estensioni invece a pagamento che vi permettono di fare altre cose in più. Una per esempio, quella che io ho chiamato branding, mi pare che si chiami proprio branding, vi permette di fare in modo che sul sito del cliente non si veda il nome del plugin MainWP Child, ma si veda assistenza e il nome della vostra ditta. Poi abbiamo un'estensione per la manutenzione del database, quindi per la pulizia dei transi, delle bozze. Altre due estensioni molto interessanti vi permettono di fare la clonazione del sito e di avere un sito di staging. Lui poi li collega e quindi quando voi avete fatto sul sito di staging le vostre modifiche e siete a posto, potete dirgli di passarle anche sull'altro. Potete collegarlo a Broken Link Checker, potete gestire WooCommerce, vedere quindi lo stato degli ordini e alcuni altri parametri. Potete, visto che non lo fanno nativamente, gestire la configurazione di Yoast SEO e anche questo è abbastanza recente, un'estensione vi permette addirittura di gestire i custom post type, crearli, modificarli, sempre all'interno della bacheca. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo visto prima con l'estensione gratuita era possibile registrare il log di quello che veniva fatto dai vostri utenti, ma con un'altra estensione è anche possibile generare dei report automatici, quindi un report che alla fine del mese dica su questo sito io ho installato tot plugin, modificato tot utenti, tot pagine, aggiornato e così a fine mese voi avete esattamente idea di quanto avete lavorato su ognuno dei siti che avete nella vostra bacheca. Per ricapitolare velocemente, evidenziamo alcuni pro ed eventuali contro di un sistema come questo. Ci sarebbe poi da confrontarlo con altri analoghi, chiaramente ora non ne abbiamo il tempo, quindi io vi parlerò solo di questo. Innanzitutto lo potete installare dove vi pare, non siete legati ad un fornitore, ve lo installate sul vostro server, sul vostro hosting, sulla vostra macchina in locale addirittura. Quando la macchina è accesa lo utilizzate, quando la macchina è spenta nessuno potrà mai andarci. Alcune cose come per esempio la gestione dell'uptime, tanto vengono fatte da un servizio esterno, quindi quando la vostra bacheca torna online il servizio lo aggiorna e voi non perdete neanche l'uptime. Un'altra cosa molto importante, la maggior parte dei servizi di questo tipo hanno dei forti vincoli sul numero dei siti che potete gestire oppure vi chiedono di pagare per sito. Questo invece vi permette nativamente, anche nella versione gratuita, di gestire un numero illimitato di siti. Abbiamo già visto la procedura di connessione, si fa in pochi minuti. E modulare le estensioni sono, io ve ne ho citate alcune, ma in totale 41 attualmente. Quindi potete aggiungere solo quello che vi serve e ignorare completamente altre estensioni per evitare di appesantire troppo. Ultima cosa, anche se non avete la versione a pagamento, il supporto è veloce, ottimo, rispondono sia sul forum che su Facebook, ci sono diversi canali. Vediamo qualche contro, anche se alcuni li ho messi, ma per me magari non sono contro, qualcuno potrebbe dire. La prima, comunque l'installazione. Io devo fare una mia installazione, ci sono altri servizi che mi danno una bacheca chiave in mano già pronta. Sulla mia installazione dovrò chiaramente gestire gli aggiornamenti anche di quella, sapere dove installarla, sapermela installare. Secondo me, chi ha bisogno di uno strumento di questo tipo non dovrebbe avere un problema di questo genere, però comunque teniamolo presente. Ho letto qualche recensione che lamentava, secondo me per versioni vecchie, perché questo problema non l'ho mai avuto, ma ve lo riporto così come l'ho letto, che aumentando il numero di siti il sistema cominciava ad essere un pochino meno veloce nella risposta. Ripeto, io non l'ho verificato, ma per dovere di completezza ve lo ripeto. E qui invece arriviamo ad un altro punto. Dibattuto, qualcuno mi dirà per fortuna, però se io voglio scrivere pagine e articoli da dentro la mia bacheca, non ho Gutenberg. E non solo, non posso avere neanche il mio page builder preferito. Per quanto riguarda Gutenberg, è stata all'inizio una scelta degli sviluppatori, quando è entrato hanno detto no, no, noi teniamo il classic editor, non so se la rivedranno, immagino, visto la direzione che tutto il sistema WordPress sta prendendo, ma per ora è così. Quindi se volete utilizzare questi, non potete utilizzare la modalità di scrittura all'interno della bacheca, ma dovrete entrare nella bacheca del vostro sito e scrivere da lì. L'ultima cosa è tutto in inglese. Per ora però. Diceva giustamente Valentina all'inizio, il Team Poligloss è quello che si occupa della traduzione di temi e plug-in. Per la traduzione di questo, che è un progetto piuttosto grosso, però abbiamo superato la metà. Quindi se qualcuno di voi volesse contribuire, presto potremmo avere anche questo in italiano. Ok, spero di essere rimasta nei tempi, e di avervi dato, nonostante tutto, una buona parolamica di questo servizio, che vi invito comunque a provare, se avete questa necessità. Abbiamo, penso, un momento per le domande, forse no? Faccio la parola. No, siamo attivatissimi. Ti ringrazio comunque. Se avete domande, magari potete scriverle direttamente via mail, che è indicato da me. Grazie Luisa di averci condiviso questo plug-in, che è sicuramente utile per tutti. Adesso, non so chi ora è a chi ora sono. Chi ora sono? Va bene. Non so se però vogliamo farmi fare. Allora, cambio di programma, se qualcuno ha una domanda veloce, possiamo rispondere. Scusa, grazie intanto. Ti volevo chiedere, se uno ha veramente molti siti, una parte importante del tempo che deve dedicare è anche quella dell'installazione del plug-in figlio, che ne so, in 100 siti. Mi chiedevo se esiste anche lì, non so, delle API, per esempio, in modo che uno tramite WPcly, per esempio, possa installare serialmente il plug-in in tutti i 100 siti che magari gestisce, se sapevi se esisteva qualcosa del genere. No, per il primo no, per l'installazione genitore no, intendevo per il child. No, no, dico anche per il child, perché tu non sei ancora connesso con quei siti, quindi io temo che... Se esistono non le conosco. So che è gestibile tramite WPcly, però non ho mai provato, devo dirti, a farlo.